Grazie a un personaggio che ho conosciuto pochi anni fa a San Marino durante un simposio internazionale che è un ex pilota militare francese di nome Jean-Gabriel Greslet. Praticamente questo signore fu mandato con altri piloti dalla Francia a fare la scuola di volo negli Stati Uniti. Perché? Perché la Francia acquistò dei nuovi caccia militari dagli Stati Uniti ma non aveva le scuole di volo in patria, quindi furono mandati negli USA. Greslet si impratichi quindi della legislazione americana, oltre che della lingua, e praticamente gli viene in testa una genialata. Allora, solitamente, Margherita, i ricercatori che si interessano del fenomeno UFO fanno richiesta attraverso il Freedom of Information Act al Ministero della Difesa, ovviamente, che è quello che poi occulta, che gestisce il cover-up, la congiura del silenzio sulla presenza extraterrestre nel nostro mondo. Ebbene, Greslet furbescamente, con una intelligenza veramente volpina, a chi fa la richiesta? Non al Ministero della Difesa, fa la richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia, che degli UFO non gliene può fregare di meno. E quindi questo signore, questo ex pilota, ormai abbastanza anziano, poi abbiamo avuto degli scambi anche di altri documenti, praticamente riceve una barcata di documenti assurdi che fino a oggi sono conosciuti solo in Francia. Non sono arrivati negli USA, non sono arrivati in Italia. Io sto traducendo tutto pian piano, perché lui pubblicò tutto questo materiale in un suo libro, che è la genesi di un segreto di Stato, poi ci mette due anni, che credo sia 1941-1954, ma potrei sbagliarmi, e praticamente da lì emerge che gli Stati Uniti posseggono astronavi recuperate extraterrestri fin dai primi anni 40, esattamente dal 1941. Poi in questa documentazione ci sono vari documenti che praticamente rivelano che persino Einstein, lo scienziato Albert Einstein, fu coinvolto nello studio di questi mezzi, che sapeva tutto Harry Truman, che si indispettì perché voleva vedere il disco volante, ma non gli fu permesso, fu coinvolto un altro gruppo di personaggi di primissimo piano, che poi formeranno quello che è conosciuto col nome del gruppo Majestic 12, o Majestic 12, che dir si voglia. Quindi il discorso della presenza extraterrestre e della comprensione di cosa sia questa visita, in ambito militare ad altissimo livello conosciuto, ma anche a livello scientifico, perché se fu coinvolto Einstein, presumo io, saranno stati coinvolti nell'arco dei decenni i maggiori e più importanti esponenti del mondo scientifico, ovviamente legati poi al potere e all'industria bellica, che è quella che di fatto ha in mano il mondo. Quindi, a parer mio, il discorso del disclosure, che è partito nel 2017 da parte del Pentagono, è perché il fenomeno su scala planetaria ha raggiunto una grandissima intensità. Ora si vocifera da decenni di un possibile incontro che avrebbe avuto il presidente Eisenhower in due basi, sarebbero tre gli incontri e, da quello che si sa, praticamente in questo incontro tra il presidente e una delegazione terrestre e la delegazione extraterrestre furono proposti al presidente degli accordi per preparare l'umanità alla grande rivelazione cosmica. E il presidente, che ovviamente non ha questo potere, si interfacciò con gli istituti, da cui comunque il presidente dipende, e fu dato il parere negativo. Addirittura fu detto, prendiamo tempo e sviluppiamo armi per tenerci lontani questi qui. Ecco quindi che nasce lo scudo stellare, cosa che Von Braun già anticipò alla Rosen dicendole che sarebbe stata fatta sta cosa qui, ma non era per i missili sovietici, ma era per tenere fuori questi mezzi che vengono dallo spazio esterno. Ora è curioso che in un vecchio video girato dallo shuttle, credo negli anni 90, praticamente si vede un tiro ad armi a fasce di particelle verso un UFO che compare, chiamiamolo, dall'iperspazio. Quindi in realtà di carne al fuoco ce n'è tantissima.